Ha avuto un esito gravissimo l'aggressione di un cane avvenuta a Benna nella giornata di ieri, ad avere la peggio un 53enne residente in paese. Una prognosi di 90 giorni per l'uomo a cui il morso del cane avrebbe strappato buona parte del naso. Ad aggredirlo, mentre stava passeggiando con il suo cagnolino un altro cane fuggito da un'abitazione poco distante. Prima è stato aggredito l'animale più piccolo, poi il suo proprietario, che avrebbe riportato la subamputazione del naso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di zona a cui il proprietario del cane fuggitivo, un uomo di 66 anni, ha spiegato di non essersi accorto e di non sapere come abbia fatto ad uscire dal cortile. Ora l'animale è stato trasferito al canile consortile in attesa di capire come procedere. Il proprietario è stato denunciato per lesioni personali e malgoverno di animali, mentre il 53enne ferito è tuttora ricoverato al CTO di Torino. La prognosi di tre mesi denota una gravissima amputazione al setto nasale.